Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo anche che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. John Gemelsky nasce il 9 maggio del 1935 e cresce a DeWitt, un soborgo di Syracuse nello stato di New York. Vive con suo padre John Senior e sua madre Wanda. John viene descritto come un bambino piuttosto riservato e tranquillo, non si lascia coinvolgere molto dall'entusiasmo e dalle attività altrui, non ha tanti amici e cerca di attirare il meno possibile l'attenzione su di sé. La maggior parte delle persone considera John come un ragazzino strano e un po' emarginato. Il periodo del liceo non è affatto facile per lui perché è vittima di bullismo. John soffre di un'acne acuta ben evidente sul suo viso e indossa ogni giorno gli stessi vestiti che, oltre a essere fin troppo larghi per lui, diventano quindi sporchi e magliodoranti. I compagni di scuola lo ridicolizzano e gli affibbiano un soprannome che accompagna John per tutte le superiori, germ, equivalente del termine italiano germe. Dopo il diploma John frequenta il college, si laurea e infine si arruola nelle riserve dell'esercito. In questo periodo la vita sociale dell'uomo va decisamente meglio, si diverte, ha stretto molte amicizie e intrattiene relazioni con diverse donne. A volte però John si perde nei deliri oscuri della sua mente dove ha elaborato un mondo fantastico solo per se stesso. Nel 1959, dopo aver lasciato l'esercito, John incontra una donna di nome Dorothy Richmond. I due si mettono insieme, si sposano presto e danno alla luce tre bambini. Passa un ventennio, arriviamo quindi agli anni 80 e John e la sua famiglia vivono ancora felici. I suoi figli chiaramente sono ormai adulti e si sono trasferiti altrove, quindi John e Dorothy sono tornati a vivere da soli nella loro casa. In questo periodo i tratti più eccentrici della personalità di John iniziano a emergere. Prima di tutto John viene descritto come un tirchio. Certo, ognuno utilizza i suoi soldi come vuole, ma John fa cose bizzarre pur di risparmiare. Ogni settimana si reca nella biblioteca locale per arraffare tutti i giornali e ritagliarvi i coupon con gli sconti. Se il personale della biblioteca si dimentica di conservarli, John si arrabbia moltissimo, quindi gli addetti spaventati cominciano ad assicurarsi di raccogliere tutti i giornali che solitamente chiede. Si potrebbe supporre che John e la sua famiglia stiano fronteggiando dei problemi economici per avere una così impellente necessità dei coupon in questione. Insomma, quell'uomo si arrabbia tanto perché la sua famiglia ne ha bisogno, è il pensiero che scaturisce, no? Beh, in realtà la situazione è diametralmente opposta perché John è un milionario, figlio di un uomo ricchissimo morto qualche anno prima. Dunque, John ha ereditato tanti soldi, diversi proprietà, titoli azionari, obbligazioni e oggetti di grande valore, tra cui orologi di Tiffany valutati 40.000 dollari ciascuno. John, inoltre da uomo ingegnoso, investe parte della sua eredità e ottiene ulteriori guadagni, ma nonostante navighi in un mare di soldi, non è affatto propenso a spenderli e la sua famiglia ne risente. Lui e i familiari indossano sempre i capi vecchi, strappati e addirittura sporchi. John rimprovera la moglie se lascia la luce accesa per tre secondi quando non lo ritiene necessario, è ossessionato dal risparmio. Mi chiedo, a questo punto se sua moglie sapesse quanti soldi suo marito aveva in realtà? Io non credo. Ma le ossessioni di John non terminano qui, infatti, sempre allo scopo di guadagnare, colleziona bottiglie, sia di plastica che di vetro. Dovete sapere che negli anni 70 e 80, per cercare di combattere l'aumento dell'uso delle bottiglie di plastica, si offrivano soldi a coloro che le consegnavano nei centri di riciclaggio. Quindi raccogliere bottiglie in giro per John diventa un'ossessione e le ammassa tutte nella sua macchina finché non c'è più spazio. John è anche un accumulatore. È vero che ricicla molte di queste bottiglie per ottenere dei soldi, ma alcune le tiene per sé, per collezionarle. Possiede centinaia di bottiglie di plastica di marche diverse, con forme e dimensioni varie, e possiede anche tantissime bottiglie di vetro. Quelle le collezioni e basta. Le bottiglie di plastica invadano gli scaffali, il pavimento, insomma tutta la sua casa. Ma John non si limita a collezionare bottiglie, infatti raccoglie parecchi altri oggetti come vecchi giornali e riviste che raggruppa in casa in pile infinite. Poi conserva in modo quasi maniacale tutto ciò che gli arriva per posta e dozzine di scatole di cereali mai aperte. Tonnellate di shampoo dello stesso brand, confezioni di ketchup, ben 56 scatole di fazzoletti immacolate. La sua casa è piena zeppa di queste collezioni. Insomma avete mai visto il programma sepolti in casa? Ecco, probabilmente l'abitazione di John più o meno versava in quelle condizioni. La situazione di accumulo si estende al giardino dove si ammassano vecchi pleomatici, lavandini e frigoriferi ormai usurati, un paio di moto arrugginite, qualche macchina inutilizzabile, tre motoslitte e due trattori. Io sono ancora qui a chiedermi che diavolo ci faceva questo uomo con due motoslitte in giardino. Ma proseguiamo. John, come avrete immaginato, non si prende affatto cura del suo giardino anche se abita in una zona prestigiosa. Le case dei suoi vicini sono bellissime e ben curate. Infatti loro si lamentano con le autorità perché vogliono che dia una ripulita a quella specie di discarica. John non si lascia turbare dai richiami, anzi costruisce un muro alto circa due metri attorno alla sua proprietà, di modo che nessuno possa sbirciare nel suo giardino. Arriviamo al 1984 quando la moglie di John, Dorothy, si ammala di cancro, ma John non le ha affatto di supporto. Piuttosto, dato che la moglie non può soddisfare i suoi desideri, cerca altre donne. Nello specifico vuole attirare delle adolescenti. John a circa 49 anni sperimenta quello che io definirei una crisi di mezza età, ovvero inizia a comportarsi, a parlare, a camminare come un teenager. Comincia a spendere soldi per comprarsi capo di abbigliamento firmati, ascolta la musica hip hop e di colpo pare che non gli interessi più così tanto risparmiare. Ben presto conosce una ragazza di 16 anni di nome Debbie e inizia una relazione con lei. Ovviamente questo non si può considerare un rapporto basato sul consenso, Debbie non è neanche maggiorenne, mentre John ha quasi 50 anni, ma secondo lui non c'è alcun problema. Addirittura, ascoltate bene, invita la ragazza a trasferirsi a casa sua e lei accetta. All'inizio John prova a mantenere la relazione segreta, ma siccome anche sua moglie vive sotto lo stesso tetto, lo scopre velocemente. Comprensibilmente la relazione tra John e Debbie causa parecchia tensione in famiglia, perché quando i figli di John apprendono che il padre sta con una sedicenne si infuriano e uno di loro arriva a tirargli un pugno in faccia. Alla fine John lascia la sua giovane amante, ma lo fa malvolentieri soltanto perché la sua famiglia l'ha costretto, osando interferire nella sua storia. John è infuriato, pensava di meritare una ragazza come Debbie che esaudisca i suoi desideri. Giura a se stesso che la prossima volta nessuno lo avrebbe scoperto, avrebbe coltivato le sue storie in segreto. Arriviamo al 1988, John ha 53 anni e le condizioni di Dorothy peggiorano. Il cancro progredisce e lei è ormai costretta a letto. John, invece di starle accanto, pensa che sia il momento giusto per trovare un'altra ragazza, o peggio, per catturarla. Infatti è disposto anche a rapierla, a tenerla con sé, contro la sua volontà. Addirittura organizza un magazzino sotterraneo per rinchiudere la sua vittima nel giardino di casa di sua madre Wanda, che è ancora in vita. È la sera del 17 settembre 1988. John sta guidando la sua Mercury Comet del 1975 e nota una ragazzina nativa americana di 14 anni, di nome Kirsten. Quando affronto i crimini nei miei video trovo doveroso parlarvi del vissuto e della personalità delle vittime, ma le identità di quelle rapite da John non sono note. I nomi a cui faccio riferimento sono pseudonimi e non circolano loro foto online. Torniamo quindi a Kirsten, la 14enne che sta tornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Un uomo sconosciuto, ovvero John, si ferma accanto a lei in macchina e approccia con Kirsten come se anche lui fosse un adolescente. Questo probabilmente la fa sentire più a suo agio, infatti John attua questo comportamento proprio a tale scopo. Convince Kirsten a salire in macchina per offrirle un passaggio, ma la porta a casa di sua madre Wanda, come secondo i suoi piani. Una volta entrato John mette Kirsten fuori combattimento con il cloroformio, la spoglia e poi la chiude nel magazzino sotterraneo nel giardino. Kirsten si risveglia dopo diverse ore e si ritrova incatenata al muro in un ambiente freddo, buio e angusto dove l'aria è impregnata dall'odore di muffa. Non ha idea di cosa stia succedendo, prova ad alzarsi ma non ci riesce perché lo spazio è talmente limitato da costringerla a rimanere sdraiata. Allora prova ad urlare ma dato che si trova sotto terra nessuno può sentire le sue grida di aiuto. Dopo che Kirsten si è svegliata comincia il suo peggiore incubo a occhi aperti. John quindi la raggiunge nel magazzino e le dice ecco sei bloccata qui e adesso avrai rapporti con me ogni singolo giorno. La minaccia che se avesse provato a scappare, a urlare per chiedere aiuto o a resistergli, lui avrebbe ucciso tutta la sua famiglia. John purtroppo mantiene la sua disgustosa promessa. Ogni singolo giorno, per sei lunghissimi mesi consecutivi, entra nel magazzino sotterraneo e fa violenza su Kirsten. Dopo questo semestre buio John pensa sia il caso di spostare Kirsten. Quell'ambiente è troppo piccolo, fanno fatica a starci entrambi. Lui ha bisogno di più spazio. Ricordate, lui ha bisogno di più spazio. John decide di costruire una prigione, una sorta di dungeon sotto il giardino di casa sua, in modo che avrebbe potuto accedervi al suo piacimento. Siccome, come detto, John ha eretto un muro per recintare la sua proprietà, gli estranei non possono vederlo alle prese con questi lavori diabolici, mentre spiega ai familiari che sta costruendo un rifugio antiaereo. E loro, sapendo che lui è alquanto eccente di che è bizzarro, non mettono in dubbio la sua storia. Anzi, uno dei figli di John, Brian, lo aiuta anche nella costruzione del rifugio. Poi John assume una società per scavare un'enorme buca nel giardino, profonda circa 3 metri, lunga 8 e larga 4. All'interno della cavità costruiscono una struttura di legno e la ricoprono di cemento, materiale che riveste tutti i muri e i pavimenti dell'ambiente. Una volta conclusi i lavori, il bunker viene coperto con circa un metro di terra. Questo sotterraneo comprende due stanze. La prima contiene una specie di bagno con una vasca riposta su un tavolo piuttosto grosso e un tubo da giardino che dovrebbe trasferire l'acqua corrente perché è assente qualsiasi impianto idraulico. Accanto alla vasca da bagno c'è un gabinetto realizzato con lo scheletro di una sedia e un secchio sottostante. La seconda stanza dovrebbe configurarsi come una camera in cui dormire anche se il letto è formato da un pezzo di compensato sistemato a terra e con sopra un cuscino, un cuscino di spugna. Non ci sono nemmeno le coperte e nel sotterraneo mancano anche gli impianti di riscaldamento. In questa prigione non filtra la luce e John tiene quasi sempre spenta l'unica lampadina che pendia dal soffitto. L'ambiente, come presumibile, è molto umido. Non ci sono sistemi di aereazione, quindi risulta soffocante e infestato dalla puzza di muffa. Soprattutto è silenzioso. Non si percepisce alcun rumore proveniente dall'esterno. Infine John decide di costruire un tunnel lungo circa tre metri e molto stretto che va dal suo seminterrato al dungeon. In questo modo non avrebbe dovuto neanche uscire di casa per arrivarci. A lavoro terminato l'uomo va a prendere la prigioniera da casa di sua madre. La scaraventa nel seminterrato e la fa strisciare lungo il tunnel. Infine la incatena di nuovo nel dungeon. Se ne va e chiude la porta di metallo dietro di sé. L'uomo inizia a scogettare delle tattiche di tortura e manipolazione per sfinire la sua vittima e controllare ogni singolo aspetto della vita di Kirsten. Le ordina di scrivere tutto ciò che fa ogni giorno, quando si lava i denti, quando va in bagno. Inoltre deve anche annotare tutte le volte in cui John si approfitta di lei. Trauma che si replica quotidianamente. In più occasioni la obbliga a lavarsi in quella vasca repellente mentre le scatta delle fotografie. o la costringe a leggere con lui dei passi della Bibbia ogni giorno. Perché John si considera molto religioso. Kirsten mangia gli avanzi delle cene del suo sequestratore. Quindi non si nutre molto. Questa è la vita della povera Kirsten che i suoi familiari e la polizia non riescono a trovare. A salvare dall'inesorabile calvario che sta attraversando. Le sue giornate si ripetono, sono tutti uguali e lei è ormai sprofondata nella depressione. John, nonostante le drastiche misure di segregazione adottate, teme ancora che la ragazza riesca a scappare. E per esercitare un pieno controllo su di lei, le ribadisce che, se avesse provato a fuggire, lui avrebbe ucciso tutti i suoi cari. Per convincerla aggiunge che è membro di una setta a sfondo intimo, potente e priva di scrupoli se si tratta di ammazzare qualcuno. John racconta a Kirsten che in realtà il suo nome è Luther e che tra gli esponenti di questa setta ci sono personaggi influenti, come agenti di polizia, uomini d'affari, miliardari, celebrità e politici. Ora, chiariamo. Non sto dicendo che sette del genere non esistano, ma in questo caso John sta inventando una marea di fandonie solo per spaventare e demoralizzare Kirsten. L'uomo le dice che in casa ci sono altre vittime e che a loro è stato concesso di essere spostate dalla prigione sotterranea all'appartamento perché si sono dimostrate degne di fiducia. John sta suggerendo a Kirsten di dimostrargli il suo valore in cambio del trasferimento in casa e della possibilità di entrare nella setta. Ogni volta che Kirsten gli avesse disobbedito il suo tempo nella prigione sotterranea si sarebbe prolungato. Kirsten che ormai vive fuori dal mondo in un limbo oscuro crede all'esistenza della setta e di altre prigioniere. E d'altro canto, perché non dovrebbe, visto che lei è stata rapita, rinchiusa prima in un magazzino e poi in un dungeon? John, mentre la minaccia, mostra a Kirsten delle foto recenti dei suoi familiari, addirittura fotografati dentro casa e lei a questo punto entra nel panico. Kirsten è convinta che John faccia parte di questa famigerata setta e che stia tenendo d'occhio la sua famiglia, dunque la ragazza decide che avrebbe eseguito tutti gli ordini del rapitore per proteggere i suoi cari. Tutto ciò è profondamente inquietante, infatti John ha scoperto dove viveva Kirsten, si è presentato alla porta dei suoi familiari, che sono in affitto, e ha finto di dover svolgere dei lavori in casa per il proprietario. La madre di Kirsten quindi lo ha fatto entrare e lui ha iniziato a girare per le stanze scattando delle foto. I suoi genitori, tra l'altro, gli hanno anche offerto un tè, sono stati gentili con lui, senza saperlo hanno accolto in casa il rapitore della figlia. Nel frattempo ovviamente loro hanno denunciato la scomparsa di Kirsten, ma la polizia non ha mai davvero avviato l'indagine. Non prende sul serio questo caso perché la ragazzina in passato era scappata di casa e si pensa che l'abbia semplicemente fatto di nuovo. In seguito John costringe Kirsten a scrivere delle lettere indirizzate alla sua famiglia. La ragazza racconta che è a New York, ospite a casa di alcuni amici, che sarebbe tornata prima o poi, ma non sa quando, perché si sta divertendo davvero un sacco. Poco dopo John obbliga Kirsten a telefonare a casa per confermare il contenuto delle lettere. E in effetti, dato che la ragazza si fa viva con i genitori, la polizia decide di archiviare definitivamente il caso. Passano fino a due anni e Kirsten continua a rimanere chiusa nella prigione. John si è approfittato di lei ogni singolo giorno e a malapena le dà del cibo. In più, si illude che loro due siano reciprocamente innamorati, che ormai condividano un legame indissolubile, come se lei fosse la sua fidanzata. John è talmente inebriato dal suo delirio, che progetta di andare in vacanza con Kirsten. E in effetti due partono per la California, secondo John, per un viaggetto romantico. Incredibilmente, di ritorno all'aeroporto di Syracuse, John dice a Kirsten che è libera di andare dove vuole. Kirsten è sgomenta, era convinta che non sarebbe uscita viva da quella prigione, anche se John, prima di lasciarla andare, le raccomanda ancora una volta di non raccontare a nessuno la verità. Le ricorda che lui sa dove vive la sua famiglia e avrebbe ucciso tutti, dal primo all'ultimo membro, se lei lo avesse tradito. Kirsten ha ormai 16 anni quando torna finalmente a casa e la sua famiglia l'accoglie al settimo cielo, ma la ragazza non si sente tranquilla. Dunque esegue gli ordini di John, cioè non rivela una sola parola a nessuno dell'agonia che ha vissuto e che la marchia inevitabilmente all'interno. Quando John e Kirsten erano partiti per il viaggio in California, il figlio di John, Brian, quello che l'aiutò a costruire il dungeon pensando fosse un rifugio antiaereo, aveva addirittura accompagnato John e Kirsten in aeroporto. Kirsten era seduta sul sedile posteriore della macchina ed era bendata. Brian dunque aveva chiesto spiegazione a suo padre e lui aveva risposto che si stava prendendo cura dell'adolescente per conto dei suoi genitori, per aiutarla a guarire da alcuni problemi di peso. Ora, non vi sembra strano che Brian si sia bevuto questa storia assurda? Lui era quello che aveva preso a pugni il padre quando aveva scoperto che frequentava Debbie, una ragazzina di 16 anni, considerandolo inopportuno, chiaramente. E quindi mi pare davvero improbabile che ora gli abbia dato credito. A questo punto della ricostruzione siamo nel 1991 e per i successivi quattro anni John torna alla sua vita di prima, non importuna più Kirsten e non rapisce nessun'altra ragazza. Vive ancora con sua moglie e rincomincia ad andare ogni settimana in biblioteca per recuperare i coupon con gli sconti, a raccogliere o collezionare bottiglie di plastica. Tuttavia in questi quattro anni qualcosa di sospetto è accaduto. La madre di John è morta e il modo in cui è deceduta è davvero strano. A casa sua il riscaldamento era stato staccato e quando è stata ritrovata senza vita era malnutrita e disidratata. Inizialmente la polizia ha pensato che la sua morte fosse sospetta, ma l'indagine ha poi concluso che la donna era deceduta per cause naturali. John quindi ha ereditato altri soldi e beni. La madre di John è morta dopo che Kirsten è stata rilasciata e se ricordate inizialmente John ha tenuto la ragazza prigioniera proprio a casa di Wanda. Chissà che sua madre non avesse visto qualcosa ma questa è una mia supposizione. Comunque dopo questi quattro anni di tranquillità John che ormai ne ha 60 non riesce a scrollarsi dalla testa il pensiero di catturare una nuova vittima. Arriviamo alla sera del 31 marzo 1995 quando John sta di nuovo guidando senza meta come fa spesso specialmente quando vuole racimolare bottiglie di plastica. Si imbatte così in un'altra adolescente di nome Michelle che ha 14 anni e proprio come Kirsten è già scappata di casa in passato. John punta a individuare i soggetti che gli appaiono più vulnerabili per lui sono le vittime perfette. Rallenta e affianca Michelle che sta camminando per strada da sola. Prova a conversare con lei, le dice che il suo nome è Matthew e che ha bisogno del suo aiuto per consegnare un pacco. Se lo aiuterà riceverà dei soldi in cambio. Michelle accetta e sale sull'auto di John il quale la informa che devono prelevare questo pacco a casa sua. Una volta arrivati John aggiunge che il pacco si trova proprio nel semi interrato. Fa quindi strisciare Michelle lungo il tunnel e raggiungono il dungeon. La ragazza si guarda intorno e vede una vasca da bagno in lercia e un water improvvisato. Entra anche nell'altra stanza e nota il compensato sul pavimento che funge da letto. Michelle si chiede dove diavolo sia finita. Ma John la distrae dicendole che c'è qualcosa sul suo piede così lei abbassa lo sguardo e lui le aggancia la catena intorno alla caviglia. Ora anche Michelle è intrappolata nel bunker. John ovviamente dice pure a lei che fa parte di una setta dai membri molto potenti e che deve fare esattamente tutto ciò che lui le ordina altrimenti la sua famiglia verrà uccisa. Esattamente come è accaduto con Kirsten in poco tempo John riesce a rintracciare la famiglia della ragazza e scatta delle foto sia ai suoi cari che all'interno della casa. Quindi anche Michelle crede alle parole di John e si rassegna a vivere la stessa infernale routine che ha segnato la prigionia di Kirsten. Deve scrivere su un quaderno tutto ciò che fa, quando si lava i denti, quando fa il bagno, quando John si approfitta di lei. John fa violenza su Michelle ogni giorno e la lascia sempre spogliata in questo sotterraneo puzzolente, buio, umido, dove manca l'aria. Tuttavia con Michelle John fa qualcosa di diverso. Registra alcuni video. In uno di quelli che ho potuto vedere, John e Michelle ballano felici. Infatti pare che lui sedasse le sue vittime per renderle più innocue. Il calvario di Michelle prosegue per 13 mesi. Come Kirsten, anche lei cade in una profonda depressione, ma all'improvviso John le permette di tornare a casa. Di nuovo. L'uomo la benda la fa salire in macchina e l'accompagna davanti a casa di sua mamma. La fa scendere e se ne va. Tuttavia Michelle, a differenza di Kirsten, non rimane zitta, ma racconta a sua mamma tutto ciò che le è successo. La donna vuole andare immediatamente alla polizia, ma Michelle è terrorizzata perché sa di cosa è capace John. È convinta che faccia parte di questa grande setta e, non molto tempo dopo che l'ha liberata, John inizia ad appostarsi fuori dalla casa di Michelle. Seduto in macchina, rimane lì a fissare l'abitazione. La mamma di Michelle nota questo individuo inquietante e si preoccupa moltissimo. Teme che la loro vita sia in pericolo. Così, lei e la figlia decidono di comune accordo di non andare alla polizia. Passa circa un anno e John sente di nuovo il bisogno di colpire. È il 30 agosto del 1997, mentre gira per strada. Nota Tina. Tina è molto diversa dalle sue precedenti vittime. È una donna vietnamita di 53 anni che non parla bene l'inglese, anche se ha un'età matura, quindi è vulnerabile a causa della barriera linguistica. John si accosta a Tina, ma capisce che non può avviare una conversazione con lei, così esce dalla macchina e la rapisce. La porta quindi a casa sua e la chiude nel dungeon. Con quest'altra vittima inizia a intensificare la tortura psicologica. Per prima cosa decide di posizionare accanto al letto di Tina, uno scheletro a grandezza naturale. La prima cosa che Tina è costretta a vedere ogni volta che apre gli occhi la mattina. Inoltre fa partire una registrazione in cui si sentono delle urla, forse messe da Kirsten o da Michelle, per farle credere che non è l'unica reclusa lì dentro. Successivamente, senza alcuna motivazione, costringe la donna a separare un grosso mucchio di chiodi e viti in due barattoli di vetro separati. Continua inoltre John diventa molto più violento. Una volta la colpisce così forte alla testa da romperle un timpano, rendendola sorda a un orecchio. Tina è obbligata a sopportare queste torture per nove mesi, poi John la lascia andare. John si sente invincibile, convinto che nessuno lo scoprirà mai perché Kirsten e Michelle non lo hanno denunciato. Ma con Tina le cose cambiano. Appena viene liberata, la donna va immediatamente dalla polizia, che però non crede alla sua testimonianza. La barriera linguistica rende difficile a Tina spiegare cosa le sia successo, ma evidentemente la polizia non è tanto interessata a capirla e a prenderla sul serio. E io trovo che tutto ciò sia assurdo. Sono anni che quest'uomo orribile fa i suoi porci comodi, chiudendo delle donne in una dannata prigione sotterranea. E per una volta chi una di loro ha trovato il coraggio di denunciare non viene creduta. Quindi sì, John la passa liscia, nessuno inizia nemmeno a indagare su di lui. Arriviamo quindi al 1998. Sono passati dieci anni dal primo rapimento di John. Dorothy, sua moglie, perde la battaglia contro il cancro e viene a mancare. Dall'esterno sembra che John sia sopraffatto dal dolore, anche se mi risulta difficile crederlo. In ogni caso nel maggio del 2001 si rimette alla ricerca di una vittima. Sta guidando la sua macchina senza una meta quando vede una donna che gli ricorda un sacco sua moglie, Jennifer, di 26 anni, affetta da problemi di dipendenza. John la invita a salire nella sua macchina e i due iniziano a parlare. Si stanno divertendo, Jennifer pensa addirittura di aver trovato un nuovo amico. Qualche ora dopo la donna perde conoscenza perché ha bevuto davvero tanto e quando si sveglia è già incatenata nel dungeon. John accende l'unica luce presente e fa il suo ingresso nella stanza. Racconta anche a lei di far parte di questa setta molto potente. Ma questa volta il rapitore dice alla vittima che sarebbe stata venduta attraverso internet per 30 mila dollari, che lei non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia. E ahimè, Jennifer è madre di due figli. Jennifer vive lo stesso incubo delle tre vittime precedenti, ma a differenza delle altre reagisce, non subisce in silenzio. Dovete sapere infatti che Jennifer picchia le mani contro le pareti della prigione fino a farle sanguinare. Ogni volta che John prova a fare violenza su di lei, fa di tutto per fermarlo, gli urla contro. Jennifer inizia anche a pensare a un piano per ucciderlo. Tuttavia John è stato molto prudente. Ha progettato che la serratura del dungeon non si apra con una chiave, ma componendo una combinazione numerica. Così quando chiude la porta del bunker sai che non può essere raggiunto. Ciò vuol dire anche che se John fosse morto nel dungeon, le sue vittime sarebbero rimaste intrappolate insieme a lui, condannate a morire di fame e di sete. Appena Jennifer scopre della serratura a combinazione si arregna l'idea della fuga, ma pensa costantemente ai suoi figli per andare avanti. Dopo due mesi John si stanca già di lei perché continua a reagire ai sopprusi, quindi la lascia andare. Finalmente la donna può riabbracciare i suoi figli e andare dalla polizia. Non vuole che John la faccia franca. Jennifer va in una stazione di polizia diversa da quella in cui si era recatatina, eppure le accade più o meno la stessa cosa. Non viene creduta. Nel caso di Jennifer non ci sono barriere linguistiche da superare. Lei racconta in modo chiaro e dettagliato ciò che le è successo, fornisce alla polizia una descrizione di John, riferisce che è alto 1,70 m, che ha i capelli grigi e una voglia sulla fronte. Descrive anche il dungeon, i graffiti presenti sui muri della prigione, le due stanze con il loro contenuto e la macchina su cui era salita quando è stata rapita, una Mercury Comet color marrone chiaro del 1974. La descrizione del veicolo in realtà è perfetta, ma purtroppo ha sbagliato l'anno, che in realtà è il 1975. La polizia cercando nel database una Mercury Comet del 1974 non trova nulla e chiude il caso senza nemmeno preoccuparsi di indagare. La cosa più frustrante è che se la polizia avesse esteso la ricerca l'avrebbe trovata la Mercury Comet del 1975 intestata a John. Avrebbero facilmente scoperto il suo nome e il suo indirizzo di casa, ma anche in questo caso lui la spunta. Passa un altro anno, è l'ottobre del 2002 e John cerca un'altra vittima con la solita modalità. Nota così una ragazza di 16 anni di nome Mika. Indovinate un po', anche lei in passato è scappata spesso da casa. John si ferma accanto a lei e le preannuncia che le avrebbe spiegato un modo per guadagnare qualche soldo se fosse salita nella sua macchina. Mika accetta l'uomo la porta a casa sua e la costringe a entrare nel sotterraneo. Anche Mika subisce tutto ciò che le precedenti vittime hanno dovuto affrontare. Il sequestratore si approfitta di lei ogni giorno e le condizioni in cui vive sono davvero disumane e disgustose. Anche a lei non viene concesso abbastanza cibo, non può disporre di servizi igienici adeguati, ma per qualche motivo John si affeziona particolarmente a Mika. L'uomo pensava che tra lui e tutte le sue vittime fossero sbocciate dei sentimenti genuini, ma con Mika va ancora oltre. L'ama e si sente amato da lei esageratamente. In realtà John nella sua follia pensava che tra lui e le sue vittime fossero sbocciati dei sentimenti genuini, ma con Mika va ancora oltre. L'ama e si sente amato da lei esageratamente. Mika, che è una ragazza molto intelligente e astuta, vede nell'attaccamento di John un'opportunità per scappare. Quindi inizia a comportarsi in modo affettuoso con lui e quel tempo l'uomo le concede più libertà rispetto a tutte le altre vittime. Lui e Mika si siedono e leggono la Bibbia insieme, si intrattengono con giochi da tavolo. Lei può guardare la televisione e addirittura salire in casa o andare in giardino a respirare aria fresca. Ma non finisce qui, perché John l'accompagna addirittura in giro. Passeggiano, fanno la spesa nel supermercato locale, vanno al bowling a mangiare da McDonald's. Una sera addirittura in un bar karaoke dove salgono entrambi sul palco e cantano insieme. John è convinto di avere il completo controllo sulla ragazza e non vede l'ora di portare Mika a una cena di rimpatriata con i compagni del liceo per presentarla a tutti loro e farli crepare d'invidia, visto che lui ha una fidanzata così giovane. Il suo riscatto per il bullismo subito, insomma un autentico delirio. Questo sì che è un delirio ragazzi e ragazze. A questo punto potreste pensare, quindi se Mika esce in pubblico con John ha numerose opportunità di fuggire, cosa aspetta farlo? Beh, dovete sapere che anche lei crede che l'uomo faccia parte di questa enorme setta che avrebbe ucciso la sua famiglia se lei avesse tentato di scappare. Dunque, anche se Mika ha più libertà, rimane sempre in trappola. Sta aspettando il momento giusto per incastrare John, non vuole rovinare tutto, sa che può farcela, ma deve agire con estrema cautela. Arriviamo all'8 aprile del 2003, quando John raccoglie davvero un'infinità di bottiglie di plastica e decide di portare Mika con sé al centro di riciclaggio. Entrano entrambi nel centro e a questo punto Mika mette in atto il suo piano, dice a John, che ha la necessità di usare il telefono della struttura. John le chiede perché. Mika gli risponde che vuole chiamare la chiesa locale per chiedere delle informazioni e lui ci casca. Mika, usando il telefono del centro, chiama sua sorella e le spiega in modo frenetico cosa le sta succedendo. Un uomo anziano la rapita e le fa violenza ogni singolo giorno. La ragazza riattacca prima che sua sorella possa risponderle e ora va nel panico. Nello stesso tempo sua sorella si rende conto che la telefonata proviene da un centro di riciclaggio di bottiglie di plastica, quindi richiama e il titolare le fornisce indicazioni sull'uomo che era con Mika. Uno dei dipendenti ha anche sentito una conversazione tra John e Mika. I due stanno per andare da una concessionaria lungo la strada. Il dipendente telefona subito alla polizia e, per fortuna, almeno lui viene creduto. La polizia si dirige in questa concessionaria locale dove individua John e Mika. Appena la ragazza vede gli agenti, corre incontro a loro urlando, aiutatemi, aiutatemi vi prego, quest'uomo mi ha rapita. Nel frattempo dovete sapere che John è sotto shock perché secondo la sua mente delirante Mika stava con lui volontariamente. Finalmente John viene arrestato. La polizia interroga subito Mika che racconta tutto ciò che le è successo, lasciando il detective sconvolto. Anche perché il contenuto della storia non gli è mica nuovo. Infatti l'aveva già sentita da Jennifer ma non aveva creduto alla sua versione dei fatti. Gli investigatori si recano immediatamente nella proprietà di John, preoccupati che possa imprigionare altre vittime. Pur senza mandato sfondano la porta di casa a calci, scendono nel semi interrato, entrano nel dungeon e notano i graffiti sui muri. Jennifer stava proprio dicendo la verità. Dopo l'arresto di John la storia viene raccontata dai media e si diffonde a livello nazionale e internazionale. Per ora la polizia sa che le vittime di John sono due, Jennifer e Mika, ma decide di rendere pubbliche le riprese della prigione sotterranea per individuare eventuali altre vittime. E in effetti succede. Le altre tre vittime si fanno avanti. Forse ve ne sono state molte di più, ma non hanno la forza per denunciare. Dico questo perché tra un rapimento e l'altro passava tanto tempo e lo trovo strano, ma resta una mia sensazione. La polizia quindi apprende che la terza vittima di John, cioè Tina, era già stata dalla polizia per denunciare, ma a causa delle difficoltà linguistiche non l'avevano considerata seriamente. Era rimasta nel dungeon per nove mesi. Quanto alla seconda vittima di John, Michelle, sia lei che sua madre erano troppo spaventate per andare dalla polizia, perché John aveva trascorso un lungo periodo a intimidirle, presentandosi fuori dalla loro casa, ferma in macchina a osservarle. Michelle era rimasta nel dungeon per 13 mesi. Finalmente la polizia viene a sapere anche della prima vittima di John, Kirsten, rapita quando aveva appena 14 anni, ormai ben 15 anni prima. Ebbene sì, Kirsten aveva mantenuto il segreto ed era rimasta nel dungeon per due anni. Onestamente non posso immaginare quanto sia stato pesante per lei non raccontare nulla a nessuno per così tanto tempo. E la ribelle Jennifer, come detto, aveva provato a denunciare ma non era stata creduta ed era rimasta nel dungeon per due mesi. Infine Mika, la più intraprendente, aveva subito una prigionia di sei mesi. Ora che le vittime si sono fatte avanti potreste pensare che John confessi che si dichiari colpevole. Invece, incredibilmente, non succede. John appare in televisione per difendersi dalle accuse, ascoltate bene, dice di essere un bravo uomo e di non aver mai fatto male a nessuno. Vi dirò, si sforza pure di piangere e ci prova con tutto se stesso ma non fuoriesce l'ombra di una lacrima dai suoi occhi. Poi afferma che, siccome sua moglie aveva il cancro, non poteva più soddisfare i suoi desideri. Lui aveva il diritto di cercare altre ragazze con cui avere dei rapporti. Io vi giuro che quando l'ho sentito pronunciare questa frase il sangue ha iniziato a ribollirmi nelle vene dalla rabbia. John, santo cielo, per quanto sia comunque sbagliato, visto che era ancora sposato, avrebbe potuto cercarsi un amante consenziente, ma ha preferito rapire delle sconosciute. C'è un po' di differenza. Le ha trattenute per mesi o anni in una ripugnante prigione sotterranea. John, attenzione, ha anche il coraggio di dichiarare pubblicamente che non ha mai rapito nessuna di loro, che il peggior crimine da lui commesso sia l'adulterio. Dice più volte che le sue vittime rivanevano in quella sudicia prigione volontariamente. Ascoltate bene, dice che ha costruito quella prigione sotterranea per fare una gentilezza alla sua prima vittima, Kirsten, che si lamentava dell'ambiente angusto in cui era stata relegata per i primi sei mesi. Quindi, per accontentarla, per farla stare più comoda, aveva costruito con tanto amore quella prigione sotterranea. L'intervistatore gli chiede se lui sarebbe dispiaciuto di vivere in quel bunker e John risponde, oh no, era bellissimo stare laggiù, non mi dispiacerebbe vivere là sotto, era assolutamente bellissimo. Infine, per concludere questo spettacolo dell'assurdo, ha il coraggio di sostenere che sia lui la vera vittima in tutta questa storia. Tutte quelle donne venivano servite e riverite, quindi avrebbero dovuto essergli grate. Insomma, avevano un letto, un bagno e tutto ciò che desideravano. Ad esempio, a Jennifer piaceva tanto una salsa per condire la carne e lui ne comprava tantissima solo per lei. Poteva mettere tutta la salsa che voleva sulla sua bistecca. John, inoltre, è convinto che per tutti i suoi crimini sarebbe stato condannato a svolgere dei servizi socialmente utili. Ma, ehi, niente di più. Io sono davvero senza parole. John è una delle persone più deliranti dopo Ming Sen Shu, di cui abbia mai letto. E vi lascio il video di Ming se non l'avete mai visto, perché assolutamente è da vedere quel video. In ogni caso, l'uomo riceve 5 capi d'accusa per rapimento. L'accusa ha tantissime prove contro John, ha la testimonianza di tutte e 5 le vittime, i loro diari e delle riprese video di John insieme a loro. John avrebbe dovuto essere condannato a una pena che si estende da un minimo di 25 anni all'ergastolo. Ma le vittime non se la sentono di testimoniare contro di lui durante il processo, quindi l'accusa decide di offrirgli un patteggiamento che lui accetta. Viene così condannato a scontare una pena che va dai 18 anni all'ergastolo. Inoltre, gli viene ordinato di vendere tutte le sue proprietà e il ricavato sarà diviso tra tutte le vittime. La prigione viene demolita, ma non la sua casa, che è ancora lì tutt'oggi. La sua collezione di bottiglie, sia di plastica che di vetro, viene venduta su ebay per 500 dollari. Alcuni detective hanno avanzato la teoria che John non amasse solo collezionare oggetti, ma appunto anche donne. Nel 2020 John ha richiesto la libertà condizionale, ma gli è stata negata. Grazie a Dio. Aveva diritto al rilascio anticipato, ma la Commissione per la Libertà Vigilata ha affrontato nuovamente il suo caso il 22 dicembre del 2022 e, anche questa volta, gli è stata negata la libertà condizionale. Fortunatamente. Questo caso, come molti altri, ci ricorda che non si può sottovalutare l'importanza della sicurezza e delle denunce dei cittadini e anche che dietro facciate ordinarie possono nascondersi orribili mostri. Queste vittime sono esempi di resilienza e coraggio e spero che le loro vite abbiano avuto un proseguio sereno per quanto possibile. Detto questo, io ho finito di parlare di questo caso che ho trovato davvero assurdo più che altro perché John le lasciava libere e questo aspetto l'ho trovato davvero davvero strano. Cioè, probabilmente si sentiva davvero incredibilmente forte e potente, perché era sicuro che nessuno avrebbe mai parlato. Ecco perché le lasciava andare. Insomma, faceva i suoi porci comodi per un tot di tempo, quando si stufava le lasciava andare perché voleva un'altra donna. Tra l'altro ho anche notato che le donne sono di età diverse, di nazionalità diverse, quindi il fatto che volesse collezionarle mi torna, mi torna parecchio anche e mi inquieta anche parecchio. Detto questo, spero che John possa rimanere al fresco ancora per un bel po' di tempo perché secondo me continua a essere pericoloso. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso. Assurdo! E niente, come al solito ci vediamo qui sotto nei commenti, come vi dico sempre, e nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate di nulla di criminale. Ciao a tutti!